ciao a tutti sono andrea cafà presidente dell'associazione di impresa cifra e del fondo fa un arcom oggi trascorreremo una giornata insieme vi presenterò insieme ai miei collaboratori al segretario generale della confusala il nostro nuovo contratto collettivo perché un nuovo contratto collettivo perché stiamo in una stagione di grandi cambiamenti nascono nuovi lavori cambiano i modi di lavorare quindi deve cambiare il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore naturalmente verso il meglio tra le più grandi novità del nostro contratto collettivo abbiamo la riclassificazione del personale per competenze una certificazione contrattuale delle competenze poi abbiamo due istituti che aiutano le persone ad inserirsi meglio in azienda il primo ingresso il reingresso ed infine lo scatto di competenza restate quindi con noi che stamattina vi presenteremo queste grandi novità che stanno accadendo nel mondo del lavoro